eccoci qui ragazzi bentornati sul canale benvenuti quest'oggi con molta amarezza e meno rispetto a ieri sera ieri sera siamo stati live nel post partite abbiamo analizzato gran parte della situazione anche se è un commento a caldo ci ritorniamo come sempre il giorno dopo a freddo mente lucida e andiamo a vedere cosa è successo ieri le dichiarazioni di di lorenzo perché c'è una cosa che mi è piaciuta per quanto riguarda quel momento in cui di lorenzo ha fatto l'errore e il passaggio sbagliato dichiarazioni di ancelotti che sono fuori luogo andremo a fare le pagelle per tutti i calciatori del napoli anche se ho letto le pagelle su altre testate giornalistiche non si trovano l'uno con l'altro chi ha dato 5 a un calciatore vai dall'altra parte trovi un 6 e mezzo chi gli ha dato 6 e dall'altra parte trovi un 5 è strano è strano e non non capisco i criteri di valutazione ma noi facciamo le nostre al di là di ciò che dicono appunto le testate giornalistiche fatemi sapere la vostra ragazzi qui sotto nella sezione commenti iscrivetevi al canale attivando la campanella delle notifiche importantissima anche per ricevere la notifica quando io programmo una live andremo poi live la sera vi arriverà la notifica vi potete organizzare è tutto un po più semplice allora partiamo direttamente dalle dichiarazioni di di lorenzo che ha detto forse c'è stato troppo entusiasmo io sono d'accordo con questa dichiarazione perché anche sull'errore dello stesso capitano del passaggio che poi bellingham intercetta e vanno in porta per il primo gol può esserci un errore di valutazione dovuta forse alla troppa alla troppa convinzione perché in quel momento il napoli stava attaccando un real madrid già messo alle corde dall'inizio senza che vogliamo fare che poi il real madrid grande squadra ha giocato la partita il real madrid si è affidato ai singoli come lo si è sempre affidato ancelotti in tutte le squadre che ha allenato senza se e senza mai io dopo la partita di ieri la mia idea su questo allenatore si rafforza ulteriormente e non la cambierò mai non la cambierò mai perché è bello avere le squadre con tutti i talenti e tanti giocatori forti i migliori per ogni ruolo però puoi anche vista la fama e visto il blasone dell'allenatore in questione puoi anche andare in conferenza stampa e dire il napoli avrebbe meritato il pareggio però questa è la champions le occasioni le devi sfruttare abbiamo vinto la partita non ti muovere non che va in conferenza risultato meritato il rigore non c'è no non lo accetto non lo accetto da allenatori della caratura di ancelotti lo posso accettare da un daversa per esempio che dopo il lecce è andato in conferenza ha detto sì però il secondo gol l'abbiamo preso su una ripartenza se non prendevamo quello la partita sarebbe andata diversamente me ne posso aspettare da un allenatore del genere ma non da ancelotti caratura internazionale ma io ho sempre la stessa idea per me i grandi allenatori sono quelli che oltre a riuscire a tenere a bata uno spogliatore di campioni ad allenare una squadra con tanti calciatori forti e a fare risultato dovrebbe dare a se stesso e anche alla critica poi sportiva modo di avere la controprova allenando una squadra tra virgolette un po' più scarsa vedendo poi che cosa si può fare se riesci a fare poi gli stessi risultati l'abbiamo visto con il napoli ancelotti il napoli secondo me la squadra tra virgolette scarsa dico scarsa ma non era scarsa però meno tecnica che ha mai avuto e i risultati si sono visti che poi uno più uno fa sempre due comunque andiamo avanti perché poi non ci possiamo soffermare sulle dichiarazioni di ancelotti sulle quali non sono assolutamente d'accordo e andiamo a fare le pagelle ma prima un attimo un paio di cose perché ieri almeno per la partita che ho visto io eri in completo possesso palla e nemmeno possesso palla ma stavi mettendo il Real Madrid alle corde i primi 20-25 minuti del secondo tempo non mi è piaciuto il cambio Elmas per Politano ma non perché è entrato Elmas e perché è torto Politano in primis perché era una partita che potevi portare a casa facendo i cambi ruolo per ruolo nel senso esce Politano, entra Lindstrom esce Lobot, Caffentrana e Cagliuste ruolo per ruolo perché in quella circostanza con quel modulo e con quei calciatori stavi mettendo in difficoltà il Real Madrid che non riusciva ad imbastire più un'azione di gioco si è affidato alle giocate dei singoli e invece poi siamo passati a un 4-2-3-1 c'è stato un momento di transizione inevitabile quando fai le sostituzioni devi cambiare modulo dove abbiamo barcollato un momento rischiamo di prendere un gollo comunque nel mentre che stai facendo i cambi e ci dobbiamo riassettare secondo me ieri era la partita da portare avanti cambio su cambio poi avremmo perso lo stesso assolutamente però secondo me dovete riprovarci con il 4-3-3 ci saranno le partite caro Carsia dove il cambio modulo ti porterà il punto in più o due punti in più al limite stai pareggiando e vinci la partita secondo me non era questa ma questa è la mia personale opinione andiamo avanti perché le cose che non mi sono piaciute sui tre gol il primo è un infortunio di Di Lorenzo passaggio sbagliato però non del tutto perché se andiamo a rivedere i replay come ho fatto io stamattina Bellingham comunque si allunga tantissimo quasi a rischio stiramento per intercettare quel pallone l'errore di Di Lorenzo c'è non è totale poi sbagliamo comunque a perdere Vinicius Vinicius entra in area Meret comunque uscito se andiamo a riguardare l'uscita di Meret non è compostissima hai un calciatore di fronte che la può mettere dove vuole con i piedi che si ritrova normale che prendi l'uno a zero Napoli che si riscatta cioè scusate prendi il gol del pareggio il Napoli comunque rialza la testa continua a macinare il gioco pur avendo preso il gol caratterialmente ci siamo ragazzi a livello di prestazione ci siamo altrettanto non abbiamo avuto assolutamente paura di questo Real Madrid forse nel primo tempo ci siamo disuniti un tantino abbiamo preso delle imbarcate ma mi sembra anche una cosa normale quando affronti determinate formazioni che punti di riferimento te ne danno pochi passano la palla ad un dei loro fenomeni e devi solo applaudire fatto sta che il secondo gol che prendiamo però non sta né in cielo né in terra e non voglio vederli più non voglio vederli più l'anno scorso il gol di di Leao non ricordo chi segnò del Milan comunque la discesa di Brian Diaz per 200 metri di campo che non esistono 200 metri ma è per rendere l'idea cioè ieri sera Bellingham è lo stesso Bellingham si fa 40 metri di campo entra in area arriva a 6-7 metri dalla porta e la butta dentro in primis in partite del genere devi battezzare chi ha il pallone se c'è la Bellingham tra i piedi devi rischiare l'ammunizione devi fare fallo e lo devi buttare a terra prima molto prima stiamo parlando di uno dei talenti e dei calciatori più forti d'Europa in questo momento Vinicius lo stesso calciatore fortissimo non è che ti dovevi dedicare solo a loro due però un minimo di attenzione in più quando avevano il pallone doveva esserci anche perché tutta la partita comunque abbiamo preso delle imbarcate così o con Vinicius o con Bellingham palla al piede senza che nessuno ci mettesse la gamba e rischiasse il cartellino dobbiamo rischiare l'ammunizione tanto è vero che il Napoli ieri un solo ammunito che è stato Nathan a fine primo tempo il resto non abbiamo preso un cartellino lo devi rischiare lo devi spendere il cartellino perché ne vale poi il punto e se ieri fosse stata una partita da dentro o fuori stamattina stavamo qua a mangiarci le mani perché hai regalato due golle e mezzo al Real Madrid non voglio dire il terzo perché comunque c'è la sfortuna c'è un grande tiro di Valverde c'è un calcio d'angolo che non c'era però dobbiamo dirlo che c'è un calcio d'angolo che non c'era perché l'angolo che ha battuto il Real per il terzo gol non c'era nella maniera più assoluta la palla la butta e va bene così noi accettiamo e andiamo avanti perché comunque ti sei perso comunque Valverde nessuno è andato a chiudere sul tiro da fuori Meret forse anche un tantino impreciso ci dovevi andare con due mani c'è stata la deviazione del difensore assolutamente potevi andarci con i pugni con le due mani forse stavi anche un tantino scostato dalla linea di porta quindi traversa e la palla è andata a finire dentro comunque un po' di sfortuna c'è stata il fatto sta che ce la siamo giocata a viso aperto con il Real Madrid e dal punto di vista caratteriale siamo cresciuti tantissimo e queste partite cominciano a pesare sempre meno situazione o si meno non ha battuto il rigore se non se la sente non lo batte Zilischi ha battuto un grande calcio di rigore personalità devo dire la verità e devo essere sincero quando si è presentato sul dischetto un tantino di tensione ci stava che lo poteva sbagliare ma anche perché sui calci di rigore il Napoli ultimamente ci sta abituando a momenti e momenti diciamo andiamo a fare le pagelle anzi prima no facciamo le pagelle lo dico durante le pagelle allora Meret Meret gli do 5 e mezzo perché un tantino secondo me di di sufficienza ecco sui sul gol di Valverde sull'uscita forse su Vinisius che poteva essere fatta in maniera più composta parlo di fondamentali fondamentali del portiere ecco di cose che si insegnano alla scuola calcio e che un portiere impara su quella palla del terzo gol ci devi andare con i pugni su quell'uscita Vinisius sa il difensore vicino che potrebbe comunque coprire il primo palo ha solo il secondo palo come opzione potevi battezzarla ma parliamo di situazioni che poi diciamo può prevedere un grandissimo portiere cosa che non ho nessun non faccio nessuna fatica a dirlo non è Meret Meret è un buon portiere ma non è un grandissimo portiere come sono stati i vari portieri anche del passato Oliver Kahn Buffon eccetera eccetera ne possiamo mettere tantissimi e in Champions League è una cosa che ti può portare la vittoria così come te la può togliere anche solo il portiere non è stato il caso del Napoli ieri perché non è poi tutta colpa di Meret la sconfitta eccetera eccetera però in Champions League possono tremare le gambe Meret forse ieri un tantino la partita l'ha sofferta comunque 5 e mezzo non è una bocciatura totale voto credo che rispecchi la prestazione un 6 ad Olivera perché anche se abbiamo offeso molto meno sulla sinistra comunque abbiamo difeso discretamente sulla fascia appunto del nostro terzino poca roba in fase offensiva è vero però anche per per meriti di un Carvacalle che comunque la partita se n'è giocata triplicato quara come sempre però tutto sommato una buona prestazione il migliore in campo anzi prima del migliore in campo facciamo l'altro centrale Ostigard Ostigard per me prende un bel 6 e mezzo forse anche un 7 ma non ci allarghiamo 6 e mezzo ha sbagliato praticamente quasi niente in appoggio sempre presente e poi di testa le prende tutte la sblocca di nuovo lui così come è stata la partita contro il Lecce Nata di testa la palla va a finire sulla travessa arriva Ostigard di Tavini andiamo in vantaggio quindi 6 e mezzo pieno altra prestazione convincente Rachman e Wangesus secondo me possono un attimo restare tranquilli contro la Fiorentina questa voglio vedere come coppia centrale non voglio vedere ha recuperato qualcuno e cambiamo la coppia centrale perché adesso che si sono affiatati non è il momento di fare esperimenti questa era una cosa per Garzia poi Garzia hai capito mi auguro di sì il migliore in campo le vedove di Kim dove sono le vedove di Kim il Napoli non ha rimpiazzato il difensore Nathan non è buono può mai essere buono un ragazzo che paghiamo 10 milioni io a suo tempo vedendo video dei lights e andandomi a guardare solo qualche statistica dissi semplicemente queste parole il Napoli sta analizzando i profili per il sostituto di Kim che per caratteristiche possono essere molto simili ricordiamo Kilman ricordiamo Danzo che poi ha fatto una debacle nell'ultimo periodo incredibile parliamo di Itacuro ancora e poi arrivò arrivò Nathan le caratteristiche di questi difensori che hai elencato sono molto simili io vi di Nathan e dissi senso della posizione pulizia di interventi piedino molto più che educato fisicamente c'è colpo di testa ci siamo va bene come difensore poi lo vedremo in azione e fino a ieri dobbiamo vederlo con le grandi squadre perché poi abbiamo giocato con il Lecce vediamo abbiamo giocato con l'Udinese il Bologna eccetera eccetera e io infatti volevo vederlo anch'io l'abbiamo visto ieri sera contro il Real Madrid la squadra per eccellenza in Champions Nathan migliori in campo le vedo vedi chi possono tornare a venerare i pacchetti di sigarette Kim eccetera eccetera perché il Napoli dal punto di vista del mercato difficilmente sbaglia un acquisto poi aspetteremo tutti quanti o aspetterete tutti quanti la prima cappellata di Nathan per scagliarvi contro il difensore e io sarò lì a difenderlo perché il difensore quando è buono lo si vede dopo tre partite lo vedi ma puoi intravedere qualcosina anche solo guardando i video da Youtube e le apparizioni e ti fa vedere una partita lo vedi da come tocca il pallone è educato a livello tattico legge l'azione come si deve perché sul secondo gol del Real Madrid arriva con un attimino di ritardo non per colpa sua a chiudere a chiudere su Bellingham purtroppo arriva un tantino in ritardo altrimenti avrebbe fatto un l'ennesima chiusura ad hoc e avrebbe negato il gol a Bellingham comunque sette a Nathan nella maniera più nella maniera sette a Nathan sì sette a Nathan è migliore in campo Ossicard l'abbiamo fatto Di Lorenzo Di Lorenzo ovviamente l'errore sull'1-0 va a gravare sul voto finale però gli diamo un 6 perché poi solo l'errore c'è stato di sbavature ne ho viste ben poche è vero avevi un cliente scomodo e Politano e Di Lorenzo se lo sono comunque divisi bene arginato quando possibile ma Vinicius comunque si crea lo spazio da solo è un calciatore di tutto rispetto esageratamente forte però tutto sommato sufficienza al capitano 5 e mezzo da Angissà che nel primo tempo mi è piaciuto non mi è piaciuto perché andavamo a scontrarci con Angissà e Lobotte che in fase di impostazione è stato un Napoli un po' disordinato rispetto al secondo appunto rispetto al secondo tempo quindi Angissà tutto sommato secondo me non arriva la sufficienza in questa partita 5 e mezzo 6 e mezzo all'Obotica che così come un 6 e mezzo a Zierischi comunque si è battuto e passaggi sbagliati ce ne sono ben pochi anche se dobbiamo dire ieri a livello di postesso palla ne abbiamo fatto molto meno forse è stata anche questa la chiave di volta per far prendere fiducia poi in Real Madrid secondo me dovevamo addormentare un tantino in più la partita e tenere più il pallone perché poi si arriva il pallone tra i piedi di qualche mostro che è di là facciamo brutte figure Raspadori al posto di Zierischi senza voto Politano 7 anche a Politano Politano a me è piaciuto tantissimo tanto è vero che ci sono rimasto con tanto di naso come si suol dire quando è stato sostituito non me l'aspettavo non mi aspettavo né che entrasse Elmas né che entrasse al posto di Politano poi Garzia ci può spiegare cosa voleva fare l'abbiamo capito dopo voleva cambiare modulo ma potevi farlo anche dopo con un doppio cambio e ti mettevi direttamente col 4-2-3-1 ma queste sono cose che vede l'allenatore Elmas al posto di Politano un 6 glielo diamo perché un paio di incursioni ci sono state ha dato una mano sulla fascia destra e anche a sinistra perché Elmas comincia a svariare per tutto il campo quando entra 5 e mezzo ad Osimen 5 e mezzo ad Osimen gli salviamo tutti gli interventi che ha fatto ovviamente in in comertura perché sui calci d'angolo e sui cross c'era sempre questo va detto però ieri aveva un cliente scomodo come marcatore se vogliamo andare girando e trovare difensori che marcano ad uomo molto bene al momento in Europa Rudiger è uno di quelli Rudiger è pane per i suoi denti quando ti appoggi con la tua schiena ti appoggi al petto di Rudiger e ti deve marcare a uomo molte volte non vedi la palla cosa che ieri è successa a Osimen non si è riuscito quasi mai a girare ha avuto gli stessi palloni spalla e la porta però di solito si gira smanaccia sposta la palla e la passa a qualche incursore la mezzala che sta scendendo ieri non è stato possibile perché Rudiger alla fine ha avuto la meglio su Osimen senza bocciare bocciature non va bene così ecco lì 5 e mezzo è onore a Rudiger per la partita fatta perché mi rendo conto che a detta di altri difensori Osimen è un cliente molto scomodo da marcare perché prendegli le misure non è da tutti lui c'è riuscito ma parliamo di un grandissimo difensore che a me piace e non poco non piace forse l'attitudine quell'attitudine sfottò che a Rudiger che ha avuto ieri un po' tutti i Real Madrid quando sono andati in vantaggio perché la situazione di Kepa che non è stato colpito e si è buttato comunque a terra ha perso 5 minuti lo sappiamo ci vuole mestiere è la Champions League però ragazzi ricordiamocelo per la partita di ritorno perché abbiamo giocato alla pari e al di là del campo sul quale andiamo a giocare possiamo dire la nostra quindi ricordiamocelo e togliamocelo questo ospizio io mi auguro che il Napoli si voglia togliere questo ospizio e che la partita poi di Madrid non sia nemmeno decisiva per le sorti di un girone noi le partite le dobbiamo vincere con l'Union Berlin e con il Braga nella maniera più assoluta perché poi sono quelli i punti che ti faranno mi faranno incazzare come un animale qua la scheria qua la scheria io gli do un 6 e mezzo perché ha cercato comunque l'azione ha cercato il gol nel secondo tempo dove poteva far meglio e tirare prima invece si è allungato il pallone ci è arrivato con la punta potevamo essere più pericolosi stamattina sembra che vogliono fare i lavori di ristrutturazione a tutta la città speriamo che venga bene il video e che si sentano le mie parole perché sembra che vogliano rinnovare tutto il palazzo comunque andiamo avanti qua la scheria 6 e mezzo l'abbiamo detto beh gli entrati Caiuste Simeone tutti quanti senza voto 5 e mezzo a Garzia perché non mi è piaciuta la lettura ditemi quello che volete a me la lettura non mi è piaciuta l'ho detto all'inizio del video per me questa era una partita da continuare sul 4-3-3 facendo le sostituzioni ruolo per ruolo non c'era nessun modulo da cambiare perché stavi non voglio dire dominando perché forse è il termine sbagliato però stavi domando ecco stavi domando il Real Madrid e potevi portare anche questo punto a casa Politano Lindstrom Karaschelia Hermas Osiment Taspadori Osimeone Zielinski può entrare Hermas a posto di Zielinski anche Lobotka Cacius Angissà Gaetano ce li hai tutti i cambi ruolo per ruolo quindi soffermarsi ruolo per ruolo e vincere le partite e leggere le partite diversamente però non voglio ritornare su García eccetera eccetera perché comunque la situazione sta avvolgendo per il meglio perché ha fatto dietrofronti in base alle sue idee un tantino abbiamo ricominciato a macinare a giocare a fare gol però il 5 e mezzo te lo becchi perché la lettura non mi è piaciuta fatemi sapere la vostra nei commenti ragazzi mi sono dilungato tantissimo 23 minuti di video mi auguro che lo vediate tutto quanto e per chi è arrivato a questo punto un grandissimo premio Oscar vi voglio bene ragazzi sempre Forza Napoli ci vediamo nel prossimo contenuto ciao